è stato ucciso perché era un ultras della Lazio, ma dovremmo scorporarla questa parte. Allora noi stiamo analizzando anche ormai da due settimane il profilo, l'identikit di Fabrizio Piscitelli. La parte che ci interessa di più, e siamo entrambi romani, quindi poi respiriamo un po' il termometro della città, e gli irriducibili, le parti, le frange più estreme del tifo laziale si incazzano quando poi ne parliamo. Però a noi serve tracciare il profilo di Piscitelli, perché l'omicidio di Piscitelli ci permette di ricostruire il quadro della mafia, della presenza della mafia a Roma. E quindi scorporando la parte del tifo e anche magari la parte più sana di Piscitelli, c'era un'altra parte che era oscura e bisogna andare a fondo. Questa parte oscura, non in questa stessa...